Alcuni dicono che sia plagio anche quella di Rama, che ne pensi? Venite con me in casa davanti al pc che ve lo spiego E ascoltate attentamente, questa è la canzone di Sanremo di Rama, sentite Mamma mia che bravo! Questa invece è Lighters di Bruno Mars, ascoltate Cioè qua raga le melodie sono uguali Cosa ne penso io? Penso che le note sono sette, la canzone di Rama è troppo bella E non me ne frega niente se è plagio o se è quel cavolo che raga è troppo bella L'adoro sta canzone, quindi non la posso rovinare così Cioè basta